Grazie a tutti. E queste spero di vederle nelle prossime edizioni di Yab presenti insieme ai colossi dell'internet. Sono dell'idea che bisogna cercare di essere il più aperti possibile, cioè l'eccessiva settorializzazione spesso rischia di diventare un limite. Certo, il settore di internet, le cosiddette dot com sono uno dei filoni principali, anche in Italia, delle start up innovative. Ci sono tantissime grandi idee, quello che servirebbe è un avvicinamento, una maggiore attenzione da parte dei grandi di internet che sono qui verso queste nuove tecnologie, queste nuove start up che hanno delle grandi idee, delle buone idee e magari gli manca solo quel pezzo, quella benzina, non solo in termini economici ma anche in termini di visibilità o di accesso al mercato che invece con l'aiuto di una grande azienda potrebbe essere facilitato. Grazie. 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 Grazie.